Paolo è un uomo tutto di un pezzo, uno che guarda la realtà, uno che con franchezza afferma come tutta la creazione soffre, geme, tutta la creazione vive il peso della caducità e anche coloro che sono figli di Dio, anche coloro che hanno le primizie dello Spirito Santo, chiaramente anche loro vivono la stessa medesima condizione del creato. Ma da qui Paolo annuncia la speranza e dice che queste sofferenze, questa caducità, questo momento paradossale, innaturale, sono paragonabili alle doglie del parto, cioè viviamo nella speranza di qualcosa di molto più grande, addirittura dice le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. Questo è molto importante, vivere nella speranza, una speranza che ci è stata donata, non è un'illusione, non è un nostro pensiero, non è una nostra fantasia, non è un evadere da questo mondo e vivere di una speranza molto impersonale, molto astratta. È Cristo che ci rivela la speranza ed è ancora Cristo che nel Vangelo ci dice sappi che il regno dei cieli è come un seme invisibile, è come lievito che tu non vedi, che è molto piccolo, ma questo diventerà un grandissimo albero e questo fermenterà tutta la pasta. La speranza rivelata da Cristo, noi siamo destinati alla gloria futura e all'eternità con Cristo sposo. Non lasciamoci rubare la speranza. Buona missione.